musica e allora ragazzi ciao a tutti le licche e ci ritroviamo un'altra volta qui su minecraft real pack intanto c'è il mio cookie in mano mi mangio il mio biscottino che nel pomeriggio si mangiano i biscotti ok come al solito abbiamo l'inventario strapieno ragazzi allora mi avete detto Nick ma sta affanna a casa leggermente un pochino grande avete ragione ah per carità anche io penso Nick sei diventato scemo all'improvviso già il tempo scarseggia e poi ti viene pure in mente di fare una casa gigante e vabbè ragazzi ci vorrà il tempo che ci vorrà dai però almeno non potete dirmi che non la sto a fare la casa ci vorrà il tempo che ci vuole però sarà una bella casa spaziosa tanto spazio non so se ce la farò sono sincero non so se riuscirò a finirla però comunque dai quantomeno costruiamo una piccola baracca per starci e poi pian piano non ho neanche la minima idea di come farla comunque diciamo che come vi ho detto la vorrei fare di vetro quindi bene o male nel senso non è che sarà una casa tutta a girare muri 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 che non si vede niente no sarà vetro e poi vediamo un po' i muri all'interno divisori oppure qualcuno mi ha consigliato di fare addirittura una piscina al centro una bellissima idea una piscina un po' di verde qualche alberello diciamo più o meno quindi qui al centro una bella piscina con un po' di albi vediamo un qualcosa ce la inventiamo allora intanto diciamo che mi libero l'inventario e si a parte ciò beviamo stavo a dire si mi devo liberare anche l'inventario vediamo un po' dove che avevo messo il cibo dovrebbe essere qua allora mi tolgo un po' di roba che non mi serve la roba casuale era mi pare qua quindi per casuale vuol dire ci buttiamo dentro tutto ciò che non mi interessa e che voglio pulire l'inventario i secchi i secchi non mi servono però li lascio qua anzi no i secchi li metto nel mio inventario interno questi li tolgo dai 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 devo ok questo non mi serve per ora sta roba questo metto qua i cookie me li tengo questo mi serve questo lo tengo qua giusto per avere un po' di ordine nell'inventario allora ci dovrebbe essere qui una cassa per la roba più o meno che mi serve prima quindi diciamo che alcune cose le metto qua tipo 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 questo però non me lo porto con me un mucchio di bottiglie vuote che dovrei riempire lo facciamo dopo ok mi libero un po' l'inventario giusto per avercelo più vuoto allora vediamo un po' dunque l'idea qual era oggi l'idea è quella di trasferire il query qua e farlo come vi avevo detto un bel buco farò un bel buco nella montagna poi chiaramente lo dovrò tappare perché sicuramente tutti i mostri cattivi sbucheranno fuori allora direi che l'ideale sarebbe andare verso casa perché sto a finire il jetpack poi passiamo dal mercato compriamo un po' di vetro compriamo delle ali perché le ali fanno comodo qualcuno mi ha detto nicchia ma perché non usi il teletrasporto per spostarti in fretta il teletrasporto ragazzi non c'è non c'è il teletrasporto a meno che non si possa craftare un qualcosa di simile ma non c'è quindi non potendo craftare cioè non lo so se esiste un qualcosa di craftabile come teletrasporto sinceramente non lo so qui c'è un po' di qualcosa di utile magari che potremmo raccogliere comunque diciamo che ci spostiamo già adesso da là ci spostiamo qua perchè spostiamo il query l'elettricità quindi la casa si trova di la oh madò non vola più essendo scarico già non riesce più a dare energia sufficiente per volare ok ce la facciamo a piedi tanto a piedi guarda sono pure più veloce ciao renna ciao strenus è lui se dite chi è strenus è un amico mio oh yes casa dolce casa sto arrivando il signor nick come dice pepo sta arrivando e devo anche fare alla svelta perchè è notte ah ok praticamente corrente finita nick sta messo male parecchio male corriamo sta a fa notte non c'è credo ma guardate che roba mi trovo fregato in mezzo alla vegetazione dai casa è vicino dai 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 veloci devo andare a dormire prima che sbucano i mostri e sono fregato devo bere devo bere altrimenti non posso correre veloce 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 sta a fa notte dai 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 più veloce della luce più veloce di nick e se possibile oh madò madò via 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 veloce 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 casa è la dai dai siamo arrivati siamo arrivati siamo arrivati a casa ci siamo ci siamo ci siamo oh meno male veloce veloce a letto a letto a letto prima che compare qualche mostro e poi ho problemi ah addirittura non è ancora notte buono è una buona notizia dai e dai fammi dormire e che cassio buongiorno ragazzi allora c'era dell'acqua una volta sì l'acqua c'è quello che manca il carbone che io ho lasciato in giro ma anche il carbone però c'ho c'ho questo dai meglio di niente ok dunque qualcosa ce l'abbiamo mangiamo un po di cookie e mattina si fa colazione con i biscotti ok colazione con i biscotti un po di questo e allora possiamo andare a ritirare la nostra query che la do anzi aspetta che sta ah si giusto andiamo nella query carichiamo il jetpack poi passiamo dal mercato compriamo qualche ala ala si quella di pollo allora qua c'è un mucchio di roba che mi servirà facciamo così cobblestone ce ne serve tanta la prendiamo dovrei avere sicuramente con me qualche borsone tipo vuoto all'incirca c'è ok spostiamo dentro la roba dai allora tutta la roba da costruzione che sicuramente ci farà comodo di qua ce ne saranno ancora dunque trasferiamo qui dentro tutta la roba che posso utilizzare per costruire anche la terra male non fa marble perchè no vai ok dai questa roba mi dovrebbe bastare questi materiali dunque andiamo subito a raccogliere il query scusate sto sempre a dire la query ma mi avete sempre detto nick e no è un maschio ok no devo stare attento che non posso volare muoio se mi butto la sotto allora cominciamo con il caricare il jetpack ok carichiamo di nuovo il nostro jetpack che almeno posso volare aspetta un po nel frattempo mi prendo il questo così che posso smontare questo e non lo posso neanche andare a prendere non è una bella cosa oh yes ok il mio jetpack ah avevo un po di alima consumata allora questo è importantissimo che io non lo perda e non andare via dunque il query prendiamo il query prendiamo i vari tubi riprendiamo tutto quello che c'è da via attenzione a quello non lo devo rompere non cadere soprattutto soprattutto io direi che qua ci starebbe bene pure una bella torcia che non si vede niente questo me lo riporto ho l'inventario pieno ok dunque gli oggetti necessari per la costruzione o quel che è li rimettiamo qua importantissimo quello lo devo spostare da qualche parte dove io ho la roba da costruzione o comunque le mettiamo qua comunque diciamo velocemente ok quindi riprendiamo questo e questa roba giustamente la possiamo anche riprendere vediamo un po' allora qui c'è altra roba questa schifezza la buttiamo va bene questo me lo riprendo questo me lo riprendo la cassa la spacchiamo e ce la riprendiamo ok dunque qua c'è un po' di iron gold e copper prendiamoci quelle cose che più o meno mi serviranno il resto lo dovrò trasferire poi mettiamo la roba e dai e non me fai incasinà ok su mettiamo la roba qua così che ce l'ho avvista i vari tubi li mettiamo qua questo mi serve lo mettiamo qua questo me lo posso tenere oh prima che fa notte va prima che fa notte me ne devo andare da qua anzi spada alla mano che non si sa mai anzi cosa c'è qua c'è un po' di ferro pigliamolo costruiamoci anche una bella spada che non si sa mai allora ormai le galline diciamo pure che sono tutte che morte però il recinto magari me lo prendo è un peccato lasciare tutto tutto sto recinto qua dai e dai che nel frattempo magari fa notte ci facciamo un'altra dormita oppure l'ideale sarebbe dormire già dove mi trasferisco mi mancano i landmark non me li devo dimenticare dai e su via bello dai e se fa prima così va lascia mi sa che non durerà a sufficienza vabbè venti colpi ancora non durerà di sicuro no ok vabbè abbiamo quasi recuperato tutto facciamo una bella cosa mi faccio un'altra ascia mi serviva del carbone allora che dicevo questa è roba che devo trasferire qui ci vorrebbe un po' di legna che giustamente beh ce l'ho a dire la verità facciamo così trasferisco direttamente le bottiglie facciamo il tutto della che facciamo prima allora le bottiglie poi mettiamo ooooo dov'è era qua ok questo però non mi serve mettiamo qua questo non mi serve non mi serve vabbè un po' di questo ok giusto un po' l'inventario come al solito un po' più chiaro che altro c'è una bottiglia la andiamo a mettere mettiamola qua allora ah no probabilmente potrei anche spostare un po' di roba mi sa che conviene ok facciamo così facciamoci una bella ascia allora dovrei avere un po' di legna qua da qualche parte eccola facciamo le cose per bene ci facciamo una ascia ok e ci portiamo le casse che è inutile lasciarle qua ehm questa è vuota pure questa pure non so dove è finita no questo mi sa che lo devo rompere con questo la cassa l'ho raccolta no dove è finita dove è finita la cassa boh vabbè ehm tu ma dai ah ecco dove è finita la cassa ok poi ok questa libreria però la lascio il letto però la lasciamo c'è una spada va bene l'armatura la prendiamo la spada le botte no vabbè oh champ star dunque questo trasferì 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 trasferiamolo trasferiamo 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 tutta roba che posso tranquillamente trasferire anche le cose rotte o quasi quasi le trasferi vabbè tanto sempre la arrivano eeeh questo trasferiamo 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 anche eeeh staff a notte va bene ah questo dove ho messo il coso ok landmark ce li ho con me li ho visti dove cacchio è quel coso dove l'ho messo dovrebbe essere qua perchè non lo vedo ah oddio eccolo qua ok nick è cieco ufficialmente sono cieco torniamo torniamo va bene torniamo di la piazziamo il quarry così che comincia a scavò questo questo poi lo trasferiamo dopo vabbè quasi quasi dai trasferiamo pure sta roba trasferiamo ok ok ah anche questo vabbè si dai trasferiamo tutto a sto punto dato che c'è lo spazio ok l'importante sono i libri ok che altro ciò da trasferire questo vabbè questo vabbè questo non importa ma si dai anche questo ma si dai che cac... ah già c'è il buco allora questa è roba che butto non so che farmene ok il grano ok va dai si ci stiamo trasferendo vai oramai più al massimo si ok lascio qualcosa non importa l'importante è prendere quasi tutto anche dove c'è il quarry credo che ho lasciato ancora un bel po' di roba vediamo quanto spazio abbiamo cerco di trasferire quanto più roba possibile oramai di qua ce ne andiamo anche i meloni oh si oh si facciamo così ops ok tutto quello che possiamo portare ce lo portiamo dunque ah già la spazzatura la buttiamo via sto inquinando ragazzi ma chi se ne frega vabbè questi li lascio andiamo di nuovo abbiamo spazio ok andiamo di nuovo qua ah già ah già eh oh dove vado aspetta questi che mica li lascio qua fanno sempre comodo ops anche le leve tutto quello che possiamo portare ce lo portiamo molto tranquilla la cosa ok c'è parecchia roba su questo non c'è dubbio magari la cobblestone la lasciamo tanto tanto ne avrò comunque tanta di la quindi non è che ok ok inventario si potrebbe dire finito ok questi li mettiamo qua dentro melone a posto eeeh andiamo ma lasciamo stare quattro cose qua non ci fa niente ok diciamo che abbiamo quindi quasi preso tutto direi che passiamo un attimino dal mercato che mi compro delle ali perché a volare così sinceramente è scocciante è molto molto lento per quanto per quanto dura molto quasi quasi mi faccio uno scontro oh ciao bello dove sei è schifosamente veloce fuori bandito oh ne ha tanta vita sto specie di coso scusa bandito mi mangio un attimo un cookie non te la prenderà male purtroppo non te ne posso offrire eeeh ahi cunuto pezzarola cunuto e sberro ok speriamo che non sa volare qua faceva comodo l'arco pizzi non c'è mica voglia di morire aspetta un po' ah dovrei essere un po' avvantaggiato scusa devo stare attento perché pezzo di merda oh era ora ok ci ho guadagnato almeno un po' di ci ho guadagnato qualche bottiglietta di acqua allora allora il mercato sta da la beviamo mentre che voliamo ok ok guarda un po' cosa abbiamo qua sopra ci stanno gli emeraldi dunque penso che li posso raccogliere anche con questo piccone ok il tipo non è comparso prendiamo prendiamo anche il carbone che percolo con noto e con noto e grazie per avermi dato un po' di ma va fa un culo eh però dai non te basta una volta due che mi devo riforniti di di pietra se appare tre volte su tre veramente dovrebbe essere una cosa rara vabbè dai un po' di carbone non è che me ne serve a tonnellate tanto abbiamo abbiamo la fornace elettrica quindi giusto un po' per l'evenienza ok mi compro assolutamente due ali perché così non si può fa' buongiorno vendo allora due ali thank you ehm due ali va bene si due ali va bene va bene ok mettiamo le ali al posto del jetpack oh buongiorno ciao ah ora ci capiamo vogliamo cioè vogliamo più o meno bassi che le ali si consumano meno velocemente e in questo modo il signor nicchia riuscirà a volare più a lungo possibile chiaramente per volare basso dico basso qualsiasi cosa va bene anche l'albero basta che gli stiamo sopra importante non volare troppo alto da qualsiasi oggetto vedete che bene o male ok posso anche volare un po' basso adesso anche a livello dell'acqua va benissimo vedete che quindi le ali si consumano a 3 a 3 al secondo se volo più alto vedete che si consuma molto prima quindi volo basso come si dice manteniamo un profilo basso oh yes ci siamo dunque qua c'è una bella grotta la esploreremo un'altra volta ok perfetto siamo a casa e